A questa puntata di Spazio, Salute e Sanità. Siamo in studio con il professor Antonio Moschetta dell'Università di Bari, che è già venuto un'altra volta qui a questo studio. Parliamo di un tema particolare, i tumori, che non finiscono mai di meravigliarci. Addirittura adesso gli studiosi, il professor Moschetta è uno di questi a livello mondiale, ha trovato dei rapporti, il colesterolo con i tumori, lo zucchero con i tumori. Che cosa c'entrano queste cose con i tumori? Buonasera a tutti. Il tema è altamente interessante. Esiste al momento una categoria di studio, proprio un campo di studio, che si chiama lo studio del metabolismo tumorale. Cosa significa questo? Noi sappiamo che per la maggior parte dei tumori, soprattutto per i tumori solidi, tutto parte da una mutazione, da un agente che è un cosiddetto carcinogeno, che attraverso l'alimentazione, purtroppo a volte attraverso la inalazione, è in grado di indurre una mutazione in una cellula. A quel punto cosa avviene? A quel punto avvengono due o tre meccanismi di difesa da parte del nostro organismo. Un primo meccanismo può essere quello di riconoscere questo agente esterno, questo carcinogeno, cercare di liberarsi di questo agente nella cellula, movimentando la detossificazione. Il secondo meccanismo di protezione è un meccanismo che viene ad incoraggiare la morte programmata. Quindi la cellula si intossica e cerca di liberarsene. Oppure la cellula si riconosce mutata, cioè che è cambiata e va incontro a morte programmata. Oppure, purtroppo, questi sono i casi in cui i tumori vanno avanti, quello che avviene è che questa cellula mutata inizia a crescere, parte e poi pian pianino, purtroppo, prima è localizzata in quell'organo dove cresce, poi magari inizia ad invadere, a creare i vasi, va in giro nell'organismo con le, purtroppo, maledette metastasi e a quel punto si ha la fase terminale. Allora, tutto questo fenomeno negli anni ha portato ad una serie di studi che sono serviti a conoscere meglio i nostri tumori, conoscere meglio dal punto di vista della loro carta d'identità, cioè che colore sono i capelli, gli occhi di quel tumore, per arrivare a delle terapie più precise, a delle terapie che vengono dette terapie target, cercare di far fuori il tumore conoscendolo meglio, quindi una terapia ad persona, una terapia quasi, come devo dire, di quel paziente che potrebbe funzionare solo in quel tumore. Ora, la sua domanda, perché metabolismo tumori, cosa c'entra colesterolo, cosa c'entra glicemia? Ecco, gli studi ci hanno chiarito che questi tumori hanno bisogno di una loro benzina per crescere e i tumori utilizzano dei substrati, dei nutrienti, si nutrono più di alcuni nutrienti, meno di altri e adesso via via spiegheremo esattamente che cosa oggi si sa e come oggi si sta tentando di modificare non solo la prevenzione con l'alimentazione, con lo stile di vita, cioè diminuire l'incidenza, l'arrivo di questi tumori, ma anche coadiuvare la terapia per cercare di dare un successo che magari può passare a volte dal 30% al 60-70%. Quindi il tumore deve mangiare? Deve mangiare e allora nel 1936 ci fu un premio Nobel che si chiamava Warburg, era un tedesco, uno scienziato, il quale creò il famoso paradosso. Portiamo di qui, lui disse che queste cellule tumorali era un biochimico, crescono in una nicchia e pensano solo a dividersi, a crescere una sull'altra. A quel punto c'è poco sangue e soprattutto c'è poco ossigeno e quindi nello step iniziale come si nutre la cellula tumorale? Beh, si nutre di glucosio, si nutre di zucchero. La cellula tumorale è come se fosse un crampo, utilizza il glucosio per la sua alimentazione. Perché ci fu questo Nobel, il famoso paradosso di Warburg? Perché ad un certo punto queste cellule invadono, vanno in giro nell'organismo, avrebbero tutto l'ossigeno che necessita per una conversione di energia da parte dei mitocondri, cioè per fare un'energia matura, quelle delle cellule differenziate, non quelle delle cellule tumorali. Ma il tumore continua a vivere di glucosio. Ora perché ho fatto questa premessa? Perché lei sa, la prima cosa importante che è derivata da questa scoperta, rapporto benzina-glucosio e tumori, è proprio la PET. Che cos'è la PET che noi facciamo oggi utilizzando un analogo del glucosio marcato e la utilizziamo in clinica come metodica diagnostica per farci scoprire dove è il tumore, dove sono le sue metastasi. Noi sfruttiamo la avidità da glucosio delle nostre cellule tumorali per visualizzare. Hanno fame di glucosio. Hanno fame di glucosio. Quindi il primo step è che loro decisamente si nutrono soprattutto di glucosio. Ma non è finito qui. Ovviamente le cellule tumorali hanno bisogno anche dei cosiddetti fattori di crescita. Cosa sono? I fattori di crescita in realtà sono molte volte degli ormoni che possono essere circolanti o che possono agire nel micro distretto del tumore. Questi ormoni danno dei segnali per dire dividetevi. Allora, il glucosio o la benzina? Per vivere, per fare energia. I fattori di crescita sono gli induttori alla moltiplicazione. Fate i figli. Tra questi fattori di crescita chiaramente uno dei più importanti è proprio la nostra insulina. La nostra insulina è endogena. Quindi lei si immagina che in una condizione in cui noi ci troviamo con un elevato contenuto di glucosio circolante per via della vita sedentaria, per via di un utilizzo di una dieta ad elevatissimo contenuto di carboidrati che molte volte non è bilanciata dalla spesa energetica. Perché come abbiamo detto l'altra volta, il contenuto degli zuccheri e dei carboidrati ad alto indice glicemico va decisamente bilanciato con quella che è la nostra spesa. Altrimenti questi carboidrati in più ovviamente si accumulano e fanno male. Ora, l'insulina è l'altra faccia della medaglia. Noi, nella nostra popolazione, superata una certa età, per via di questo scompenso, da quello che assumiamo e quello che brugiamo con il poco movimento, accumuliamo insulina. La maggior parte dei nostri concittadini del sud Italia che facevano dieta mediterranea oggi hanno una situazione di iperinsulinemia, cioè di resistenza all'insulina e per non avere diabete, dinanzi a tutti questi zuccheri, il nostro pancreas, che è l'organo che fa l'insulina, ne fa molta di più in maniera tale che gli zuccheri si mantengano normali. Allora, noi avremo una glicemia circolante enorme. L'insulina brucia gli zuccheri? L'insulina fa abbassare gli zuccheri perché non tanto li brucia, dà la capacità alla cellula di utilizzare il glucosio per i fenomeni energetici bruciare ma per anche trasformare in grassi. Quello che avviene è che la nostra popolazione ha una glicemia che magari non supera i 100, quindi non ha i criteri per diabete ma ha un'insulina molto alta per via di questa dieta arricchita in carboidrati. Queste condizioni sono il primo movimento per cui nel momento in cui ci dovesse essere una mutazione da un agente carcinogeno che riesce a scappare quel fenomeno di detossificazione di cui parlavamo prima, cioè la capacità della cellula di ripulirlo o riesce a mutarla e quindi a scappare dalla morte programmata, a quel punto ha tutto l'ok per crescere. E questo è il primo step, quindi la prima benzina è decisamente questa qui. Questo potrebbe spiegare, come si dice quando facciamo le giornate, riportiamo i dati scientifici ultimi, il perché nella nostra popolazione con la sindrome metabolica, cioè un'obesità viscerale, cioè una circonferenza addome più alta, noi siamo più esposti ad una serie di tumori. Certo la Puglia non è al primo posto per numero dei tumori ma ha cambiato la sua tipologia di tumori, abbiamo che il tumore del coloretto sta per diventare il numero uno di frequenza in Puglia tra i tumori e abbiamo che purtroppo per alcuni tumori che riusciamo a combattere molto meglio, come il tumore della mammella, si è purtroppo abbassata l'età di incidenza, cioè le donne al di sotto dei 30 anni oggi hanno in una percentuale significativa la presenza di tumore della mammella, cosa che 20-25 anni fa non si vedeva. Ora tutto questo era un tumore dell'età matura, quindi abbiamo fatto passi da gigante per curare, abbiamo fatto passi da gigante per dichiarare guarite delle donne con tumore della mammella grazie alle terapie specifiche ed innovative che ci sono. D'altro canto notiamo un aumento dell'incidenza in età più giovanile. Tutto questo probabilmente perché si provvede, non volendo, con il nostro stile di vita sedentare, una nostra dieta non adeguata, a dare molta benzina ai tumori. Come dicevamo prima, abbiamo affrontato il capitolo della glicemia e del glucosio, ma a breve affronteremo anche il capitolo di quelle che sono tutte le altre forze metaboliche che il tumore ha per poter crescere. Ecco, per esempio il colesterolo? Ecco, il discorso del colesterolo è altamente interessante, professore, perché questo? Tantissimi studi, quelli sulla glicemia sono degli studi netti. Si immagini che la rivista Science, che è una delle riviste più importanti della medicina, ha dedicato un issue a gennaio, un volume, proprio citando quali sono i rapporti tra sindrome metabolica e tumori. E questo ponendo l'attenzione su glicemia e su fattori di crescita. Ora, il secondo step è decisamente anche quello del colesterolo. E qui è bene fare un pochettino di chiarezza. I dati sui livelli circolanti di colesterolo nel rapporto ai tumori non sono dei dati netti. Ecco, diciamo prima, il colesterolo che cosa è? Il colesterolo è un lipide, un grasso, che è assolutamente importante per il nostro organismo, soprattutto per la composizione delle membrane plasmatiche, cioè per creare quelle barriere che le cellule hanno per poter interagire tra di loro, assorbire i sedi. Quindi il colesterolo non è cattivo? Il colesterolo non è affatto cattivo, è una cosa utile, ma Drenatura ci ha dato un sistema ottimale per sintetizzarlo anche, oltre che per assumerlo con la dieta. Questo perché il colesterolo è necessario per le nostre cellule. Ora, vede, è proprio qui il dato importante. Noi abbiamo e siamo tutti pronti a misurare i livelli circolanti di colesterolo, abbiamo dei valori che sono la colesterolemia totale, cioè il colesterolo totale, e poi suddividiamo in colesterolo HDL e colesterolo LDL. Lidova è il cosiddetto buono e cattivo. Le LDL sono quelle lipoproteine che trasportano, quelle macchine che vanno a distribuire il colesterolo in periferia e quindi vengono chiamate cattive, non perché madre natura ci abbia dato una macchina cattiva, ma perché qualora fossero come concentrazione al di sopra di una soglia, possono proprio distribuirlo e, come dire, depositarlo in periferia per fare le placche. Il colesterolo invece, HDL, quello buono, sono quelle macchine che sono in grado, dalla periferia, di portarlo indietro per poi eliminarlo con le feci. Tenere questo colesterolo HDL alto è importantissimo per prevenire anche le malattie, soprattutto a telosclerotiche.